musica 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 e salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono obelduo ed oggi stiamo ritornati al nuovo video allora si ragazzi come avete già detto dal titolo questo è un prank ai miei amici su PS4 allora ragazzi ho fatto un prank a uno scherzo diciamo a dei miei amici su PS4 facendo credere che sono stato bannato da GTA online poi ho voluto andare ancora più in alto con lo scherzo ancora peggio cioè che gli ho fatto credere che c'era un hacker che si è preso in possesso di mio account adesso ve lo faccio vedere il video è una cosa stupenda è uscito uno scherzo epico anche un po' finito male comunque adesso vi lascio il video se vi piace lasciate un bel like mi iscrivetevi al canale se volete e noi ci ricchiamo al prossimo video buona visione oh eccolo qua mi è arrivato allora adesso entro cosa? cosa? ma perchè mi dice sta roba impossibile unirsi eh? mi dice impossibile unirsi ma non è possibile aspetta riprovo arrivi vita che massimo è quattro sono voi tre ma non è possibile ma anche la Gallulese c'è sempre entrato il donerchio no io quello النotta io attuodino il donerchio lì ci a biancare lo fanno iscrivete dai provi e invita e? Allora A me non mi è arrivato niente Ah eccolo Eh me ne è arrivato Allora clicco Partezza Clicco accetta Ancora Mi esce scritto Attenzione Impossibile unirsi A causa di un errore Riprova più tardi Ma che cazzo Ma che cazzo è Ma bu Vabbè Unisco il vostro Ufficio Non posso unirmi No ma che cazzo è Che cazzo è No No Vabbè a parte Ma che cazzo è No raga Raga no 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 Perché Che c'è La rockstar vi ho vadato No serio No c'è scritto Attenzione C'è scritto Attenzione C'è scritto Il tuo account è stato sospeso Non ho già scritto Fino a l'estero qua Il tuo account è stato sospeso A causa di un errore O di manutenzione Una roba è buono Quasi Una roba La roba La roba sospeso C'è da come a me Che c'è zero Tutti le baglie C'è adesso io clicco Ok e mi fa uscire No Ok no Niente Adesso riprovo Rientro Ma qui Rientro L'applicazione Conietta No No Vuoi provare Così Rientro Mi viene in mente Corro i suoi soldi Come un abit Ma perché Tu fai Riuscivi Tutto per caso Io No Però dovrei cominciare Allora adesso Adesso di provo a rientrare Online Beh online mi fa andare Allora c'è online Vai Carica 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 E mi compare sempre Sto messaggio Con scritto Il tuo account È stato sospeso Ovvero Blocato Bloccato A causa Dei dollari Mondati Blandafudil88 Hai Un miliardo Di dollari Fatti illegalmente La preghiamo Non lo so E poi c'è E poi c'è scritto Se si tratta Di un errore Contattare La La Roxxar Li Supporti E poi c'è Dove sei Ci sali Arriva Aspetta Sto prendendo il pacco Ehm Lo trovo Un po' Con un buco Per entrare Ok Ecco Prendo il pacco Salgo E ora Preso Non sono Inghia E' andata nella Roxxar E gli dici Che a te Li sono stati accaduti Versi i soldi Ma Tu non li è bene Tu non li è bene Minchia Adesso non posso più giocare a live E manca un a te Diciamo Si aspetta Che ci prendiamo A Mistery Sì a Mistery Eh sì va bene Mistery Una persona Che lo dice bene Finalmente Tutti i misteri Matti O Ora riprovo E tra l'online No no Dopo domani Non rispondo Domani è presto Siamo dopo domani Dovendo chiamare Dici Quello che è successo Ah no Hai prima a chiamare Non pensate Ognuno leggono Devi chiamare C'è il numero della rockstar Qua in Italia E chiami tu Lo so Lo so Adesso Adesso Prova Provo Eh adesso provo a rientrare Se non funziona Prova a chiamare A vedere Che va bene Risponde qualcuno Vabbè Perché domani Sicuramente Non risponde nessuno No domani Non risponde nessuno Però non lo so Adesso Domani è presto Domani è stato anche a casa Oh oh Mi sta unendo C'è scritto Ti stai unendo a GTA Online No Sì Vecchio Sì sto entrando Quanta è la percentuale? Eh vabbè Io prima sono andato sulla storia Poi sono andato online Mi sono unito Dalla nostra Sessione Ah wow Allora se l'ho baggato Sì Si sei baggato Quina Il gioco Baggato Sì Sì Io non so Prendita Ad un tratto Pensavo che mi avevano Un blocco Cioè Banato l'account Per un momento Mi è venuto male Perché so cosa Cosa si trova Su di Eh lo so A me è successo Non ho potuto far niente Io No Che cazzo è Perché io Il rango Non me lo sono mai Moldato Guai Perché c'era gente Che mi diceva Eh vuoi che ti Moldo anche il rango Il rango Io ho detto Ma Sì sì No raga No 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 Ascoltate Allora Aspett Ascoltate Sei stato Bandito da GTA Online A vita Per aver usato Glitch Bug Immortalità Teletasporto Dollari E mod E procederemo Alla disattivazione Aspetta Procederemo Alla disattivazione Del tuo account Social Club BlamDaffodil88 E non ti sarà più consentito Di giocare online Con il tuo account PSN Per maggiori informazioni Visiti il nostro sito E ritorna A Grand Theft Auto 5 Normale Aspettata 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 Minchia Che è Cisino Aspettata Abbandonata No vabbè Lui devi chiamare la Rockstar E devi sperare il problema Ma adesso Non risponde nessuno Tu stai dormendo Stai dormendo Beh può essere Se ti va bene Può essere Una probabilità No perché Nel sito C'è scritto Di chiamare Dalle 8 Di mattina Poi fino alle Le 8 Di sera Fino a che ora Le 8 di sera E il 9 di sera Allora niente Provi Dopodomani Mani è festa Quindi non credo Aspetta Voglio riprovare A rientrare Allora riprovo Vai GTA Online Partecipazione Ok Ma perché mi dice Sempre sta cosa Se è stato Maldito da GTA Online A vita Per aver usato Glitch Bug Immortalità Teletrasporta Addirittura Dollari Modati E mod Se Quando vai Usato Ste Mod qua Marvalla Ciao 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 C'è poi C'è scritto Procederemo Alla Disattivazione Del tuo Account Social Club Cioè Anche Digital Che Non potrò Più Faccio Nulla Account Social Club Blandafutil 88 Non ti Sarà Più Consentito Di giocare Online Con Il tuo Account PSN Ritorna A Grand Theft Auto 5 Quindi Proprio In generale Non potresti giocare No Cioè Non posso Giocare A GTA Con Questo Account Con L'altro Account PSN PSN No Con Quest'account Che sto utilizzando Adesso Non posso Giocarci Poi Con Gli Altri Sì Ma Io Non voglio Giocarti Nell'inizio Stato Strano No Chi cazzo Che ti ha messo Sti soldi Prima Infatti Che cazzo Mi sbaglio Ma Ti posso Fare Una Domanda Nel Genio Poi Non Ti Sare Con Sonti No Eh Poi Non Prova Ma Non Non Poi Bene Più Sai Come Fai A Cabine Se È Uno Che Cazzo Di O No Ti Spiego Io Oggi Mi sono Legato Le Che C'è Prima Mi dicono Che Che Il mio account È Stato Bloccato Poi Scoprono Che È Utilizzato Dei Glitch Pag Che Non L'ho Mai Usato Qui Tu Meccone Di Megali Tutto E Beghi Ce Lo so No Adesso Ti voglio D'annunciare Non Puoi Eh Tanto C'è D'annunciare Contrereone Di che posso Però Ma chi è sto Voi Voi lo conoscete Sto hacker Che Che Truffola E Mi inserisce No Ma Apparece Che Chi Non Può Saperlo Ah Vigia Sì L'Università Di Jack Di Questa Trava Sì Ma Adesso C'è Non Posso Più Neanche Giocare Con Voi Eh Lo so Rispetto Da Me Ma Poi E Questa L'Università Questa La Stana Eh Appunto Ok 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 Tu Stavi Spazzando Di Ma Quando Ma Questa T U T T Sous-titrage ST' 501